Si svolta mercoledì sera al Teatro Garibaldi di Modica il concerto di fine anno realizzato dagli alunni delle classi prime, seconde e terze del corso all'indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani. L'orchestra Falcone è stata diretta dal maestro e docente di sassofono Giovanni Manganaro, mentre Sonia Nicastro, docente di percussioni, ha presentato al pubblico il concerto intitolato La Scuola Broadway, atto terzo. Al concerto presentato dai docenti Francesco Sindoni e Sonia Carpentieri erano presenti più di 80 tra alunni ed ex-alunni, un momento davvero emozionante per tutti i presenti, frutto di un duro lavoro che mostra quanto impegno e voglia di fare musica abbiano gli studenti dell'Istituto. Non è che simonianza di questa passione per la musica, coltivata fin da piccoli, la presenza di alcuni ex-alunni che hanno scelto di proseguire gli studi in questo settore ottenendo particolari soddisfazioni. Dopo l'esecuzione dei vari brani sono stati attribuiti vari riconoscimenti per le classi e per alcuni alunni, in particolare i quali si sono distinti in quest'anno scolastico. Un premio speciale è stato conferito ad Umberto Modiga, il quale sa molto bene che l'istruzione è fondamentale per crescere e diventare adulti, competenti e liberi, e che per raggiungere certi risultati, oltre alle capacità personali, occorrono la costanza e l'impegno. Durante il ciclo della scuola primaria si è distinto negli apprendimenti e adesso ha scelto di continuare gli studi nel corso musicale, per suonare la batteria che già studia privatamente da alcuni anni, superando la selezione con il voto finale di 28 su 30. Nella serata di mercoledì l'Istituto Raffaele Puedomani ha voluto premiare pubblicamente la sua costanza negli studi e la sua assidua frequenza a scuola. Grazie